Il crollo del numero di passeggeri in aeroporto di Alghero non si arresta e anche nel primo trimestre del 2018 lo scalo catalano ha fatto registrare i numeri negativi. La denuncia arriva da Marco Ted, consigliere regionale di Forza Italia, che sottolinea come per l'aeroporto di Alghero non vi sia pace nonostante la propaganda della giunta regionale e degli assessori ai trasporti. Citando i dati di ASA Aeroporti, Ted rileva come siano solo 164.000 passeggeri transitati ad Alghero nel primo trimestre dell'anno, con una perdita di circa 12.000 passeggeri sullo stesso periodo del 2017, meno 6,8%, che però ha fatto registrare un meno 30,6% e meno 89.872 passeggeri rispetto al primo trimestre del 2016. Impiattoso il confronto statistico nello stesso arco temporale con Olbia, che segna un più 23% e Cagliari un più 10%. Per le esponenti di Forza Italia, l'aeroporto sconta la cattiva gestione delle politiche dei trasporti attuate dalla giunta Piliaru, a partire dal mancato sostegno alle low cost, quando l'aeroporto era sotto gestione pubblica, per proseguire con la rinuncia alla continuità territoriale 2, al fallimento della continuità territoriale 1, alla vendita della società di gestione e biblici ritardi del bando sulla destagionalizzazione. Ora si cerca di scaricare la responsabilità su presunti deficit della destinazione Alghero e sull'impresa turistica del territorio, ma le responsabilità sono chiare, denuncia Tede, e devono ascriversi alla giunta Piliaru, ai sindaci dei più importanti centri della provincia, che in silenzio hanno assistito al depotenziamento dello scalo. Ancora una volta chiediamo a Piliaru, conclude il consigliere Tede, di prendere atto di questa crisi infinita e di convocare un tavolo con tutte le forze politiche, i sindacati e le forze produttive, al fine di individuare misure che possano interrompere questa picchiata della più importante infrastruttura della provincia di Sassari. Grazie. 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 Grazie.